Pablo Ruiz e Picasso, in arte Picasso Cenni biografici Pablo Picasso, un gigante dell'arte moderna. Nato a Malaga, in Spagna, nel 1881, Pablo Picasso si affermò come uno dei più grandi e influenti artisti del XX secolo. Non solo pittore, ma anche scultore, incisore, ceramista e scenografo, rivoluzionò il mondo dell'arte con la creazione del cubismo, in collaborazione con Georges Braque. Dopo una lunga e prolifica carriera, si spense l'8 aprile 1973 a Mugins, in Francia. La sua eredità artistica, però, rimane immensa e la sua leggenda continua a vivere attraverso le sue opere. Nel corso di quasi 80 dei suoi 91 anni di vita, Picasso si dedicò con instancabile passione alla creazione di un'opera vastissima, che ha contribuito in maniera fondamentale allo sviluppo dell'arte moderna. Tutti i bambini sono degli artisti nati, il difficile sta nel fatto di restarlo da grandi. Non giudicare sbagliato ciò che non conosci, prendi l'occasione per comprendere. I colori, come i lineamenti, seguono i cambiamenti delle emozioni. A 12 anni dipingevo come Raffaello, però ci ho messo tutta una vita per imparare a dipingere come un bambino. L'arte scuote dall'anima la polvere accumulata nella vita di tutti i giorni. Ci sono pittori che trasformano il sole in una macchia gialla, ma ci sono altri che con l'aiuto della loro arte e della loro intelligenza, trasformano una macchia gialla nel sole. L'arte è una menzogna che ci consente di riconoscere la verità. Gli accidenti, cercare di cambiarli, è impossibile. L'accidentale rivela l'uomo. La pittura è più forte di me, mi costringe a dipingere come vuole lei. Le persone in genere non sono così brutte come vengono ritratte. Chi vede correttamente la figura umana? Il fotografo, lo specchio, o il pittore? L'arte spazza la nostra anima dalla polvere della quotidianità. Io faccio sempre ciò che non posso fare, in modo da imparare come farlo. A mio parere, no, non significa nulla. Non ho opinioni riguardo l'indifferenza, e non me ne curo. La pittura non è fatta per decorare gli appartamenti. È uno strumento di guerra offensiva e difensiva contro il nemico. I 60 anni sono quell'età in cui ci si sente finalmente giovani. Ma è troppo tardi. Il peggior nemico della creatività è il buon gusto. Quelli che fanno un affare dell'arte sono per lo più impostori. L'arte non è mai casta. E quando è casta vuol dire che non è arte. Perché in casa mia non ci sono appesi i miei dipinti? È perché non posso permettermeli. Chi trova qualcosa, non importa cosa possa essere, anche se non aveva intenzione di cercarla, suscita almeno la nostra curiosità, se non l'ammirazione. In ogni bambino c'è un artista. Il problema è capire come rimanere artisti diventando grandi. Qualsiasi cosa nuova, qualsiasi cosa che valga la pena di fare, non può essere riconosciuta. La gente non ha semplicemente una simile visione. Quando si è giovani, si è giovani per tutta la vita. Quando non ho più blu, metto del rosso. La pittura è una professione da cieco. Uno non dipinge ciò che vede, ma ciò che sente, ciò che dice a se stesso riguardo a ciò che ha visto. Se dipingete, chiudete gli occhi e cantate. Per diventare giovani ci si mette troppo tempo. Bisognerebbe poter mostrare i quadri che sono sotto il quadro. Io non cerco, io trovo. Dal punto di vista dell'arte non ci sono forme concrete o astratte, ma solo forme, che sono bugie più o meno convincenti. L'arte non è mai casta. Si dovrebbe tenerla lontana da tutti i candidi ignoranti. Non dovrebbero mai lasciare che gente impreparata vi si avvicini. Sì, l'arte è pericolosa. Se è casta non è arte. Non c'è passato né futuro in arte. Se un'opera d'arte non può vivere sempre nel presente, non se ne deve assolutamente tener conto. Non ho mai fatto tentativi o esperimenti. Ogni volta che avevo qualcosa da dire, l'ho detto nel modo in cui sentivo di doverlo dire. Non riesco a capire l'importanza data alla parola ricerca nella pittura moderna. A mio avviso cercare non significa niente in pittura. Quello che conta è trovare. Quando dicono che sono troppo vecchio per fare qualcosa, cerco di farlo in fretta. Quando dipingo, il mio obiettivo è mostrare ciò che ho trovato, e non ciò che sto cercando. In arte le intenzioni non bastano. Se esistesse una sola verità, non si dipingerebbero cento tele diverse sullo stesso tema. Quando uno inizia un ritratto, e cerca per successive eliminazioni di trovare la forma pura, si finisce inevitabilmente con un uovo. Dobbiamo dipingere ciò che è sul volto, quello che c'è dentro il volto, o quello che c'è dietro. La scultura è il commento migliore che un pittore può fare sulla pittura. Rimasi sorpreso dell'uso e dell'abuso che si fa della parola evoluzione. Io non mi evolvo, sono. In arte non c'è né passato né futuro. L'arte che non è nel presente non sarà mai. Rimanda a domani solo ciò che saresti disposto a lasciare incompiuto morendo. Il successo è pericoloso. Uno inizia a copiare se stesso, e copiare se stessi è più pericoloso che copiare gli altri. Porta alla sterilità. Un'idea è un punto di partenza e niente altro. Prima di poterla elaborare, è stata trasformata dal pensiero. Quando ero piccolo, mia madre mi diceva, se farai il soldato, sarai generale, se diventerai monaco, sarai papa. Ho voluto fare il pittore, e sono diventato Picasso. Grazie per la visione, mettete un like se il video è stato di vostro gradimento, iscrivetevi al canale, e condividete con i vostri amici.